A Metauriglia di Fano c'è una via il cui nome è un incognito. Ci troviamo all'altezza della chiesa davanti al Circolo Arci e più precisamente a fianco di un noto ristorante del posto. Alcuni residenti infatti ci hanno segnalato la mancanza del segnale con nome in entrambe le entrate del tratto stradale. A farsi da portavoce il signor Alberino Marcantonini di 80 anni, una vita passata a fare il muratore. Lui che in questo quartiere abita da più di 30 anni non ha mai visto il nome di questa strada. Il tratto che conta circa 40 nuclei familiari collega strada nazionale adriatica con strada comunale Ponte Alto ma la curiosità è che non viene neanche indicato dal più grande servizio internet geografico o dai semplici navigatori. Non è scritto nemmeno nel navigatore questa via, non so io. Quindi cosa chiedete al comune? Chiediamo una tabella per la via e poi tre punti luce qua. Questa situazione rende ancora più difficile per i mezzi e le emergenze di soccorso la ricerca di questo luogo. Una signora è già disceduta però stava molto male, chiamano i i cosi, la Croce Rossa. La Croce Rossa arrivava giù in fondo e non sa dove andare. Non sono casi da sorvolare in queste condizioni oggi giorno. Quindi voi siete dovuti arrivare in fondo alla via? Sì, in fondo alla via dicendo che l'ammalato stava in questa zona. Stessa situazione anche con i vigili del fuoco? Con i vigili del fuoco, tre mesi fa ha preso fuoco una cappa del camino che poi non si sa come sono fatte. Non riusciva a spegnere, ha chiamato i pompieri, i pompieri sono dovuti venire a prendere io qui dicendo che in cima c'è un'altra via che andava giù. Dopo l'hanno trovata, ma è così. Siamo abbandonati da tutto. Facciamo un altro appello al comune di mettere su il famoso cartello. noi chiediamo di mettere su questi due cartelli e poi se c'è tre punti luce. Come ci spiega un altro residente, la situazione è stata fatta presente anche al sindaco e all'assessore, ma nulla si è mosso. Ho parlato direttamente col sindaco, con l'assessore, che noi abbiamo il circolo qua, sono venuto a pranzo, gli ho fatto vedere proprio la strada, mi hanno detto più di una volta, non è possibile. È tutto un giro che non si riesce a capire, ma se non lo capiscono a che serve? A mettere una tabella? No, là su Monteschiantello, strade, sperdute c'è la tabella. ormai è persa la speranza, capito? Perché è arrivato al sindaco, è arrivato l'assessore proprio dei lavori, non c'è stato niente da fare, allora a questo punto invece di alzarla la passiamo la voce a noi. Inoltre la parte finale di questa strada risulta pericolosa e sconnessa a causa delle numerose buche. Sono abituato ad andare in bicicletta per muovermi un po', però non posso uscire con la bici con queste buche, se vado a rischio di cadere per terra, di andare al Padre Terra, non mica la storia. Da quanto tempo che è così? È sempre così, perché qui, non essendo la via, non puoi andare nemmeno in comune e dire che quella via ci sono buche e non vengono mai a ratoparle.